Salve da Gruppalati, auguri per il giorno dell'Immacolata. Normalmente io festeggio anche la vigilia, oggi festeggio invece proprio il giorno dell'Immacolata. Con le nostre tradizioni, voglio dire, il baccalà con i ceci, tagliatelle, la nostra salsa biologica e tanti altri aromi. Quindi, praticamente sono stati messi ad insalare già i pezzettini qualche giorno prima e poi il giorno prima di fare praticamente la nostra tradizione, voglio dire, con le tagliatelle, oggi per dire il vero non ho tanto tempo, utilizzo le pappardelle. Normalmente le faccio io. Utilizziamo le pappardelle che è la stessa cosa, più o meno, con baccalà e ceci. I ceci vengono tenuti in ammollo insieme al baccalà. Ovviamente il baccalà deve essere abbastanza dissalato, quindi giusto, giusto quel po' di sale deve rimanere. Così anche i ceci prenderanno il sapore del baccalà. Volendo anche questa acqua, se non è molto salata, si potrebbe anche sfruttare per cuocere la pasta. Ci sentiamo più tardi a far vedere la nostra tradizione molto gustosa, ovviamente con un bel bicchiere di vino rosso locale di tipo magliocco. Auguri di buona immacolata a tutti quanti voi.